Vi racconto quello di cui volevo parlarvi oggi era da un lato raccontarvi l'esperienza di Hability, come era nata e come si era sviluppata e quello che noi crediamo possa essere un esempio, non dico un'ispirazione, però un esempio di una possibile evoluzione dei fab, dei makerspace, di tutti quei luoghi dove in qualche modo si lavora sull'innovazione dal basso che poi magari troveranno un nome che è diverso da quello che siamo oggi perché il campo di intervento si sta di molto allargando e diversificando. L'Hability nasce in un modo molto semplice, oggi è un'associazione che nasce su un gioco di parole che è to hack disability, cioè hackerare la disabilità. Abbiamo scoperto dopo che l'espressione esistiva già e si riferiva alla possibilità di hackerare le cose, ma quando nacque Hability non lo sapevamo quindi ci sembrava un facile gioco di parole. Nasce come idea, molti anni fa in realtà, nel 2008, a Torino, la città da cui io vengo una confederazione dell'artigianato che si chiama CNA, decise di fare una ricerca. Questa ricerca verteva sul capire quali erano i farbisogni edilizi edilizi, una ricerca fatta per gli edilizi, cioè per quelli che ristrutturano le case, mettono, farbisogni edilizi del mondo della disabilità in cui si intravedeva un potenziale mercato, stanto il fatto che il numero di persone con disabilità, e poi lo vedremo più volte, sta di molto crescendo in questi anni e sta crescendo in due direzioni. Da un lato perché paradossalmente la medicina ha fatto dei passi avanti molto importanti e quindi la stessa persona che qualche anno fa moriva. Oggi invece viene spesso salvata. Dall'altro c'è un tema molto profondo, lo vedremo spesso, che lega disabilità e invecchiamento della popolazione. L'invecchiamento della popolazione porta con sé delle disabilità, per cui le persone invecchiando, e noi invecchiamo sempre di più, ovviamente hanno poi spesso quelle che possiamo chiamare malattie degenerative, di qualcuno sono molto banali, tipo diventare mio, oppure presbo, le persone sono molto banali, però diventano fenomeni di massa, perché si viveva meno a lungo e quindi... Questa ricerca è interessante perché noi decidiamo di farla entrando nella casa delle persone. Nel 2008-2009, se tu vuoi vedere i dati Istat e provi a fare una ricerca sui numeri, in realtà ti raccontano poco. I numeri sono sempre un po' freddi, cioè ti danno dei dati. E noi invece volevamo capire di che cosa le persone avessero effettivamente bisogno. Allora decidiamo di fare una ricerca di tipo quantitativo, qualitativo, di entrare nelle case delle persone e di intervistarle. E lì si innesca un'esperienza per me fondamentale e perché lavorava per me, con me anche, perché in realtà per noi la disabilità era un mondo abbastanza lontano, noto, rispettato, però con cui non entri né in empatia, salvo casi personali, e di cui non conosci fino in fondo le problematiche, e neanche in intimità, tra virgolette. Questa ricerca è stata una ricerca che ha coinvolto 100 persone, anche in una città grande come Torino, intervistare 100 persone erano tutte paratetraplegiche, per intenderci le persone paraplegiche sono quelle che hanno perso l'uso degli arti inferiori, le tetraplegiche, quattro in greco, sono le persone che hanno una compromissione dell'uso degli arti inferiori e anche superiori, quindi erano solo un certo tipo di disabilità. Noi ne abbiamo intervistate più di 100, e più di 100 anche in una città come Torino, una città grande che fa un milione di abitanti, in realtà sono tantissime, perché in questo tipo di ricerche tu intervisti solo quelli che sono disponibili a farsi intervistare, cioè intervisti, chiami mille persone, di queste talune hanno voglia di mettersi in gioco, di raccontarsi, di spiegarti come vivono, e quindi 100 sono proprio tante. Fu una ricerca che ancora adesso viene considerata abbastanza importante per tanti temi, adesso è una ricerca molto in profondità, però quello che in particolare ci colpì è che moltissimi di loro si realizzavano da soli delle soluzioni per l'accessibilità. E davvero molti di loro, ed erano soluzioni a volte molto brillanti, e molto legate alla loro disabilità, molto personalizzate, molto customizzate come si direbbe oggi. E quindi ci vennero due idee fondamentali. La prima era cambiare il computer, la seconda era... No, la prima idea era, ma perché non prendiamo, perché non prendiamo costruire un ponte da queste tecnologie che stanno iniziando, che sono le tecnologie, diciamo che poi qualche anno dopo si chiama making, prima erano Arduino sostanzialmente, le stampanti 3D. Torino è molto vicino a Ivrea, dove c'era l'Interaction Design Lab, e per una serie di rapporti, di relazioni personali, molti di noi conoscevano queste cose che stavano partendo. Perché non proviamo a dire che... Da un lato abbiamo persone che... Tecnologie che permettono di realizzare soluzioni su misura, dall'altro abbiamo macchine, e dietro le macchine delle persone, che sanno realizzare soluzioni su misura, e perché non facciamo incontrare chi ne ha bisogno con chi è in grado di realizzare questa soluzione? E tra l'altro, spesso, il bisogno, all'epoca era già un bisogno individuato, perché si partiva da una cosa realizzata da qualcuno, e che quindi funzionava. Si trattava, come dire, di prendere qualcosa fatta uno a uno, e trasformarlo in qualcosa che fosse riproducibile con macchine digitali. Perché questo è importante? Qui dentro... Probabilmente sapete tutti benissimo di cosa stiamo parlando, però non lo do per scontato. Allora, è importante perché le cose fatte artigianalmente, una a una, e anche per la disabilità, sono sempre esistite. Io stesso ho visto in un museo di un paesino disperso del Galles un lord inglese che durante le guerre boere si era preso un colpo di ascia su una spalla, era diventato inevitabilmente disabile, eccezionale come le guerre creino disabilità, sono quasi fatte apposta, e siccome era un uomo molto ricco, si era fatto fare un set di posate, tutte su misura, pensate sulla sua mano, una per una, in legno di bosso, bellissime. Allora, però, questi oggetti, fatti una per una, che sono bellissime, vengono dalla nostra tradizione, noi veniamo dal mondo dell'artigianato, quando gli oggetti sono diventati di massa, sono lunghi e costosi da fare. Quando invece entri nel mondo del digitale, non che siano facili ed economici, però attenzione, tu non stai più facendo una forchetta, e in questo punto se avessi le foto sarebbe più semplice, ma una volta che hai fatto una forchetta, tu dopo lavori su un file, e quindi tu modifichi un file, e mandi stampa a un file, il che è diverso da prendere un legno di bosso, e scolpirlo, e tagliarlo uno per uno. Allora, ci sembrava che già questo fosse rivoluzionario, perché tutti parlavano di customization, ma customization per chi? Per quelli che hanno bisogno di oggetti fatti su misura, cioè prendere, fare un oggetto di uso comune, rifare un bicchiere, stamparlo in 3D, non ha nessun senso, è più caro e funziona peggio. Ha senso, se tu hai un problema di handing, e quindi quel bicchiere lo vuoi fatto in un certo modo. Lo stesso discorso, mutata mutandis, vale per le schede open source. Oggi tutta una serie di presidi, quindi l'Aduino, la Raspberry Pi e quant'altro, e che lo pensano cosa sono, faccio finta che alcuni di voi non lo sappiano, le schede, quindi tutti gli elettrodomestici che noi usiamo, hanno dentro delle schede, che sono schede dedicate, il computer alla motherboard, la scheda madre addirittura, la fatherboard, cioè hanno dentro delle schede dedicate, immaginate quello per riscaldare, come si dice, il ventilatore ha dentro una scheda, la macchina fotografica, oppure la famosa scheda della lavatrice, che quando si rompe sembra la scheda, la famosa scheda della lavatrice, e sono tutte schede dedicate. Qualche anno fa, lo sappiamo bene, pensando a qualcosa, mi spiace dirlo, ma di molto futile, futile e bellissimo, che l'Internation Design, venne in mente di fare delle schede programmabili, cioè delle schede che non erano dedicate a fare qualcosa, ma che potevano essere programmate, allora questa cosa ha sicuramente un'importanza nel mondo dell'Internation Design, ma noi venne in mente che potrebbe avere un'importanza nel mondo della domotica, soprattutto pensando alle soluzioni per la disabilità, che anche da quel punto di vista sono molto costose, le soluzioni domotiche per la disabilità, perché sono fatte, di nuovo, in piccoli numeri. Quindi, di nuovo, due pilastri, proviamo a portare, l'idea iniziale di HBiltiera, proviamo a mettere al centro le competenze, le idee, i progetti già realizzati al mondo della disabilità, e metterle in relazione con quel mondo che ha le tecnologie per rispondere a quei bisogni, con due principali pilastri, che erano la stampa 3D e la programmazione open source delle schede. Allora, questa roba qui, che sembra semplice, una decina di anni fa, mal contati, era un po' più complessa. Era un po' più complessa per una ragione abbastanza banale. Sono due mondi molto distanti tra di loro. Il mondo dell'open source, il mondo dei fab, il mondo dei maker, il mondo dei designer, il mondo degli ingegneri, di un certo tipo di ingegneri, diciamo, è un mondo, lo dico, con grandissimo affetto, fighetto, molto identitario, che gira con i cappucci, il mondo della disabilità non è un mondo fighetto, è un mondo, come dire, che ha problematiche molto concrete, ma che non necessariamente si fida o entra in relazione con il mondo dell'innovazione, laddove il mondo dell'innovazione è fondamentalmente disinteressato, era spesso disinteressato a occuparsi di questi temi. Quello, dicevamo sempre, con un mantra che ha dato anche il titolo a questo talk, si stampavano tante tour Eiffel, tante immagini di Yoda, tante maschere di Iron Man, e si stampavano poche soluzioni per le persone. Adesso sto diventando complicato senza immagini, perché dovrei descrivere due o tre progetti, mentre invece... Magari, Carlo, scusami, se abbiamo bisogno di parecchio tempo per avere le immagini, possiamo dare qualche indicazione, possono cercare su Google delle immagini? No, va bene. Allora, alle mie spalle, voi vedete questa... No, era per fare degli esempi, poi la fabulazione senza slide è complicata. Vi faccio un esempio di applicazione molto immediata, ad esempio, i primi progetti sono stati una forchetta, l'evocavo prima, che si chiama la forchetta di Ivan, e una mano per la riabilitazione, sempre stampata in 3D, che abbiamo chiamato la mano di Alice, fatta dai ragazzi di un istituto superiore, che è una mano per fare un movimento molto semplice, che è questo, aprire e chiudere la flessione delle dita. Questa mano e la potenza della fabbricazione digitale, cosa di particolare? Bene, allora, come potete immaginare, gli strumenti per la riabilitazione dei bambini tipicamente non esistono, soprattutto i bambini che hanno avuto ictus, per due ordini di motivi. Il primo è che sono relativamente pochi, ma sono molti di più di quelli che pensiamo. Il secondo motivo è che la mano di un bambino cresce e cambia quindi, e quindi un'azienda produttrice non può fare su numeri piccoli un'infinita quantità di taglie di mano. Ecco, questo era un esempio di grande impatto della stampa 3D, perché una volta che tu hai fatto una mano per Alice, siccome alle spalle di questa mano tu hai un file parametrico, cioè che quindi hai fatto le ranghezze e le lunghezze, in realtà puoi realizzare tutte le taglie, ti basterà cambiare i parametri, allargarlo, diminuirlo, strecciarlo, per dire, quindi applicazioni molto concrete. Allora, lavorando su queste robe qua, a un certo punto diciamo, vabbè, ma noi vogliamo che questa cosa succeda, capiti, vogliamo, ed è qui l'idea di Hability. Hability era un momento di incontro. Nasce come evento che lanciamo tra il 2014 e il 2015, con una lunghissima gestazione, non è anche legata al fatto che all'epoca era proprio difficile spiegare che cosa volevamo fare. Adesso a noi ci sembra semplice dire voglio fare una roba basata sulla stampa 3D, ma vi garantisco che nel 2013-2014 quasi nessuno sapeva di cosa stessi parlando, anche se sembra passata un'epoca era molto difficile coinvolgere il mondo della disabilità, non avevano idea di che cosa gli stessi proponendo. Ma a lunga gestazione facciamo questo evento. Facciamo questo evento a Torino e lo costruiamo con l'idea di rendere il tema disabilità cool, figo, sfidante. E quindi si basa sopra la costruzione di tavoli di lavoro e su un mese di processo per arrivare alla realizzazione di sei oggetti, di sei oggetti per l'autonomia. Al centro c'è la persona con disabilità che o lancia una sfida o propone una soluzione e poi andiamo a costruire dei team che lavorano un mese su queste soluzioni con l'idea di rilasciarle in open source, quindi metterle poi a disposizione di tutti, di tutte le comunità, di tutte le persone. Questo evento qui ha avuto ben oltre quelle che hanno le nostre aspettative un successo pazzesco, nel senso che sono arrivate persone davvero un po' da tutta Italia in modo inaspettato. Era un evento che partiva un po' come questo a bassissimo budget e sono arrivate persone a tutta Italia. Qualcuni sono passati anche qua a salutare Mimmo Cardinale che veniva da Matera. Ci sono arrivate persone a tutta Italia attirate dall'idea di lavorare sul tema disabilità, trovare sfidante questa che era una sfida. Questo è innescato un meccanismo virtuoso perché siamo diventati per tutto il 2014-2015 l'articolo più letto su Wired. Cioè Wired Italia nella sua versione web all'epoca dava una medaglietta e ha detto questo articolo qui è l'articolo più cliccato in Italia. Cioè in Italia l'articolo più cliccato in assoluto era stati noi. Quindi ha avuto un enorme impatto mediatico e questo per dire che poi la comunicazione ha degli effetti anche virtuosi, non del tutto banali e quindi abbiamo incominciato a raccontare questa esperienza di coprogettazione dove ci chiamavano in giro per l'Italia. Tra i vari posti dove andiamo a raccontare questa storia c'è il Politecnico di Torino che è una grande istituzione formativa che si occupa per l'appunto di Politecniche, di Arti Politecniche, di Tecniche Politecniche. Non so come si dice Marco, come si occupa il Politecnico? di Scienze Politecniche. C'era il Politecnico di Torino e due ricercatori del Politecnico di Torino che seguivano un corso, facevano assistenza a un corso che si chiama Tecnologia per la disabilità, d'accordo con il professore ci propongono di riproporre l'esperienza della coprogettazione e dell'uso delle stampanti 3D, quindi lavorare assieme con persone con disabilità, individuare un progetto e avere la prototipazione agli studenti. in alternativa all'esame. In alternativa a un bel pezzo dell'esame. Quest'esperienza va avanti per 5 anni, ma siamo all'anno 1, la prima volta che entriamo nel Politecnico di Torino. Più o meno contemporaneamente veniamo chiamati da una scuola, un istituto tecnico di Torino che si chiama Pininfarina, questo tecnico molto importante da Torino, avevano delle storiche scuole che formavano gli operai specializzati dalla grande industria del metalmeccanico, una scuola molto grande, con grandi laboratori che ci propone di provare a proporre HB dentro questa scuola. Allora, ci incominciamo ad avere delle casistiche. La prima casistica, come dire, è l'HB organizzato da noi dentro un Fab Lab chiamando le persone con una call pubblica, il secondo caso è l'HB organizzato dentro un'università che diventa un corso universitario, il terzo caso è un HB organizzato dentro il suo superiore. Se ne aggiunge un ultimo caso a un certo punto, perché un signore che è passato di qua fuggivolmente, si chiama Giancarlo Addario, viene a sentire che all'epoca lavorava per la Barilla, che è un'industria che produce pasta e alimenti da banco, sente una talk dedicata da HB alla Maker Faire di Roma e dice, ma io vorrei portare HB dentro la Barilla, vorrei che voi la faceste dentro la Barilla. Le ragioni erano interessanti, diceva, io lavoro per la ricerca e sviluppo di questa grande impresa e voglio che questa impresa ragioni sul fatto che le cose si possono fare anche in modo diverso, coinvolgendo le comunità, coinvolgendo gli end user. Noi abbiamo un grande laboratorio di sviluppo e ricerca, ma è tutto top down. Progettiamo tipicamente delle soluzioni, le realizziamo e le testiamo, secondo le tipiche regole che sono il focus group, il boots group. Questo di per sé non è sbagliato, però dal punto di vista tecnico ha un problema, che è l'uscita sul mercato. Questo è interessante, cioè se tu fai un'operazione top down, cioè dall'alto, c'è qualcuno che si chiude in modo idealista dentro una stanzetta e immagina, come dire, immagina una soluzione, poi la realizza, poi la testa su dei campioni, non è né giusto né sbagliato, però hai ad esempio un'uscita molto lunga sul mercato, perché di te se ne fai tanti, anche il livello di fallimento è piuttosto elevato. Invece Giancarlo, intricemente dice, io voglio dimostrare internamente all'azienda che se noi facciamo delle cose coinvolgendo le persone e le facciamo dal basso e le coprogettiamo, avremo due effetti. Faremo delle cose che servono effettivamente alle persone, perché abbiamo coinvolto la comunità nella realizzazione, ma voglio anche dimostrare che siamo più veloci ad andare sul mercato. E' stato un processo molto lungo, perché per un'associazione no profit rapportarsi con una corporate non è la cosa più immediata, sia in termini di linguaggio, sia in termini di setting, sia in termini tecnico-burocratici, c'è stato un processo che è durato quasi un anno. E però, di nuovo, è stato il quinto pilastro, avevamo lavorato nelle università, avevamo lavorato nelle scuole, avevamo lavorato nei Fab Lab, siamo andati a lavorare in una grande impresa. Questa cosa ci ha fatto crescere molto, ma non tanto in modo astratto, perché le imprese siano di per se stesso i migliori degli altri posti, ma perché ti obbliga a metterti in gioco, ad esempio, sulle metriche, perché se vai a chiedere dei soldi a una grande impresa, gli devi ad esempio spiegare che non è banale, che avrai un certo impatto, che avrai successo, non ne vai col cappello in mano, però, e quindi è stato un passaggio molto importante. Dopo questo passaggio su Barilla, che si è chiamato a Kabiliti ad Barilla, che è stato un evento di una certa portata, dove abbiamo qui i parenti, Daniele, che viene da Parma, che è stato testimone, testimone protagonista, e che nessuno di voi vuole riportare a Parma domani, dopo questo evento noi ci rendiamo conto, incominciamo a tirare le somme di tutto quello che sta succedendo attorno a Kabiliti e di tutto quello che è la coprogettazione e l'uso della tecnologia possono realizzare e ci rendiamo conto che facciamo open innovation, volendo, cioè che coprogettando fai innovazione aperta per le imprese, cioè perché porti innovazione nelle imprese, fai certamente inclusione, e coinvolgendo le persone con disabilità nella coprogettazione, in realtà stai dando valore alle loro idee e stai lavorando su quelli che sono i loro skill, soft, hard, acquisisci nuove competenze, l'esperienza più forte dopo Barilla ad esempio che abbiamo avuto, l'abbiamo avuto dagli amici designer che ci dicevano è la prima volta che qualcuno mi racconta come fa la spesa, ho imparato tantissimo, perché ho capito come dire, come vengono fatti i gesti quotidiani, cioè ci rendiamo conto che Hability copre e questo e mettere al centro la coprogettazione copre un set molto ampio di possibilità e su questo noi costruiamo un modello, costruiamo un modello dicendo guarda al centro c'è quella coprogettazione, questa coprogettazione può avere degli obiettivi diversi a un tema, il tema è quello dell'accessibilità, ma può avere delle declinazioni diverse a seconda del contesto in cui lo vai a portare, tenendo fermo però come dire la vision, cioè l'idea che vogliamo su questo costruiamo un modello e su questo incominciamo sviluppando ancora di più il ragionamento che avevamo già iniziato con Barilla a costruire delle metriche, cioè delle metriche per dire, per riuscire ad andare nei posti e dire guardate non solo noi facciamo delle cose ma siamo in grado di dimostrare che queste cose hanno un effetto, cioè quindi superiamo l'idea di famo cose, siamo bravi, siamo smanettoni o siamo buoni e volenterosi, no vogliamo dimostrarvi che questa roba qui funziona, la misuriamo, serve a noi, serve a voi, serve anche a noi per capire come stiamo lavorando. Questo percorso che ha fatto in modo che una persona del nostro team seguisse un corso che si chiama una valutazione di impatto ci ha permesso di costruire a Tronacability un set di proposta molto credibile e noi in brevissimo tempo dopo l'esperienza con Barilla e forti come dire di averla abbiamo lavorato per le grandi industrie, per le grandi imprese in due direzioni abbiamo fatto un lavoro molto importante per Juventus sull'accessibilità dello stadio, dello store e del museo che è stato anche quello che ha fatto capire quanto fosse importante ad esempio in quel caso il tema della conoscenza vi faccio un esempio quando abbiamo lavorato sulla Juventus una delle fasi su cui non mi dilungo anche perché spiegare la voce è proprio complicato della metodologia accountability è lo shadowing cioè le persone con disabilità vanno a usare i posti vanno a usare i posti ne colgono gli elementi di croticità e poi tornano alla coprogettazione shadowing è un'espressione che abbiamo preso la ricerca antropologica l'abbiamo proprio rubata di brutto e quando l'antropologo segue e quando l'antropologo segue come dire l'organizzazione comunitaria tribale fa fine e prende appunti ecco noi facciamo shadowing rispetto a come vengono usate le cose anzi lo shadowing lo fanno le persone con disabilità che vanno in un posto lo usano e poi torno dicendo guarda questo questo non funzionava però lo osservano con gli occhi di chi lo vuole cambiare non con gli occhi di chi lo vuole criticare che sono due approcci comunque diversi allora Juventus ad esempio ci ha fatto capire davvero che facciamo per innovation perché è evidente che tu l'accessibilità di uno stadio che per intenderci è una struttura di cemento di acciaio di migliaia di tonnellate non la cambi cioè non è che cambi l'accessibilità di uno stadio con la stampante 3D puoi trovare delle soluzioni alcune interessanti alcune meno poi ne trovi sei ne trovi sei legati all'intelligenza di sei team quindi non è detto che siano quelle che poi servono davvero ma invece è vero che ti fai descrivere quello che non va che mentre stai coprogettando ti fai descrivere puntualmente tutto quello che non funziona tutte le tematiche per cui ad esempio la cosa più interessante che da questa esperienza ha capito Juventus è stata perché non funzionava il ticketing perché le 40-50 persone che hanno participato al ticketing cioè all'acquisto del biglietto hanno poi riferito da user experience del mondo della disabilità perché avevano difficoltà a fare il biglietto non scendo in dettagli però tu restituisci una roba importante interessante in termini di funzionamento ho detto la cosa più importante in rapida successione dopo Juventus abbiamo fatto un lavoro per Toyota si chiama HBD4Mobility a cui hanno partecipato Giuseppe per tante persone che sono venute a Torino eh Bernardo Bernardo e tante persone che hanno venute a partecipare anche lì il tema era molto interessante va da sé che le soluzioni che sono state trovate e restituite a Toyota e ad Arriva che era il grande altro partner Arriva come voi sapete è un'azienda di logistica di Pullman non sono le soluzioni vere definitive salvo il fatto che poi noi liberiamo tutto in open source e hanno un enorme valore soprattutto per quelli che le guardano le hacker le modificano da quel punto di vista come dire però quello che abbiamo restituito all'azienda sono dei temi sono dei problemi non riesco a mettermi la cintura non riesco a guidare non so come tenere il volante noi abbiamo proposto delle soluzioni magari una volta investito nello stesso problema il loro centro sviluppo ricerca che sta in Olanda credo ne troverà delle altre magari migliori sono bravi insomma fanno macchine sono padroni però abbiamo usato la coprogettazione per fare open innovation di nuovo sempre lavorando sopra le metriche e quindi riuscendo a dimostrare che noi riusciamo a produrre dei risultati siamo riusciti poi a scalare cioè a portare Hability ad esempio in Cina è partito un gruppo di lavoro a Shanghai che ha lavorato con la New York University sempre nel tema dell'accessibilità e per ultimo adesso ne dimentico sicuramente qualcun altro sempre lato imprese dopo il lockdown che però è una frattura non banale abbiamo fatto un lavoro ah siamo andati a Parigi a lavorare con Eris e Vasa sempre mobilitando comunità locali attenzione noi non siamo andati da nessuna parte abbiamo sempre chiesto ad altri di occuparsi perché del tema perché ovviamente la coprogettazione è fatta da persone che si frequentano in dimensione empatica quindi non puoi andare tu vai a Parigi a vedere che avrà tutto liscio ma è chiaro che a Parigi lavoreranno maker, designer ingegneri francesi con persone con disabilità francesi che poi lavoreranno assieme e coprogetteranno assieme non è che vai a fare il teatrino e ti muovi da una parte all'altra portando quindi mobiliti comunità locali però chiedi loro di applicare un metodo di attenzione ad alcuni elementi questa è stata un'esperienza molto importante e per ultimo abbiamo lavorato sull'accessibilità dei locali pubblici con Paladene che è una grande produttrice di birre tutto questo sarebbe molto più interessante se alle mie spalle si vedessero le foto gli oggetti le soluzioni così mi rendo conto che è un po' diventando un monologo un po' faticoso parallelamente stessa stessa dinamica cioè stessa stessa eh ma non ci sono sul sito l'ultima no penso che possiamo risolverlo invece non si riesce a scaricare il software la stessa stessa tecnica stessa dinamica l'applichiamo ad esempio da anni in un evento che si chiama HBity Camp che invece è legato alla comunità cioè tra le varie cose che ci rendiamo conto si possono gestire con la coprogettazione c'è il community building dove non è più importante il community building vuol dire costruire il senso di comunità obbligare le persone a lavorare assieme farle partecipare assieme su un progetto vi faccio un esempio il primo che abbiamo fatto l'abbiamo fatto a Barriera di Milano che è un quartiere di Torino caratterizzato dalla coesistenza di migranti e vecchia popolazione residente di origine tipicamente popolare operaia era un quartiere popolare insomma popolare non nel senso legato all'edizione popolare però era un quartiere e lì ci sono dei problemi di convivenza spesso non del tutto banali sia come dire tra migranti italiani sia tra generazioni perché tipicamente i migranti sono molto più giovani dei residenti tradizionali invece sono persone anziane allora vi faccio un esempio noi a Barriera di Milano il primo camp che abbiamo fatto abbiamo usato la coprogettazione non tanto per arrivare alla individuazione e all'individuazione dei risultati ma per fare in modo che generazioni diverse e persone con provenienze diverse tipicamente il vecchio operaio piemontese piuttosto che pugliese piuttosto che abruzzese e il 2G di origine tipicamente nordafricana lavorassero assieme e lavorassero assieme per realizzare soluzioni per l'accessibilità all'interno della loro comunità questa cosa dove ha acquistato valore e guardate che abbiamo usato sempre la stessa tecnica sempre la stessa tecnica i tavoli i tavoli che lavorano assieme la coprogettazione l'individuazione di un progetto comune non tanto nell'output che peraltro è stato straordinario perché abbiamo realizzato una targa per i povedenti e ciechi che sta diventando uno dei nostri cavalli di battaglia ma nelle relazioni che sono cambiate sul territorio cioè le persone se lavorano assieme a un progetto si conoscono si relazionano e si riconoscono anche in termini di competenze abbiamo lavorato lo dicevo prima nelle scuole sempre sulla stessa dinamica l'ultimo lavoro abbiamo tavoli di lavoro in varie città d'Italia che sono partite soprattutto legate alle persone che hanno partecipato agli eventi che ovviamente si adattano alle dimensioni territoriali e quindi cambiano leggermente l'impostazione ma mantengono la stessa vision la stessa mission cioè la stessa modo di lavorare su questo abbiamo poi costruito a ridosso del lockdown in realtà abbiamo iniziato qualche anno qualche mese prima parecchi mesi prima e poi l'abbiamo usato massicciamente nel lockdown quello che finalmente ha fatto poi il salto di qualità che è stato un vero e proprio kit un kit per favorire i percorsi i processi di coprogettazione che adesso è il kit hackability che permette anche a persone diciamo con meno skill che attenzione non sono skill tecnici gli skill per fare coprogettazione con le persone con disabilità come può testimoniare più o meno molte persone qui per Beppe Becci come può testimoniare Marco e Daniele spesso sono soft skill cioè la capacità di tenere assieme un gruppo di farlo lavorare di non prevaricare eccetera eccetera però abbiamo costruito degli strumenti che questo lo facilitano ancora adesso cioè alcune fasi alcuni momenti topici per non perdersi per andare avanti su questo abbiamo costruito delle community molto importanti gli ultimi tre elementi fondamentali sono stati i progetti che abbiamo dedicato proprio sui territori sui territori a provare a costruire un modello molto simile a quello che evocava Giuseppe Iuzzi abbiamo provato a costruire una specie di laboratorio diffuso per la realizzazione dei prototipi perché le cose non basta farle bisogna fare in modo che poi le persone le adottino e abbiamo provato abbiamo distribuito decine di stampanti in particolare all'interno di un progetto su alcune zone della città parlo sempre di Torino anche se è un'esperienza ricca anche a Milano anche a Parma anche a Cuneo però Torino è quello dove sperimentiamo di più perché siamo di più e perché facciamo tante cose e poi sono anche i progetti che conosco meglio perché li vedo più da vicino abbiamo provato a lavorare su un sistema mutualistico di disseminazione dei stampanti 3D e questo ci ha portato all'ultimo progetto che forse per noi è il più importante poi faccio perché mentre facevamo questo progetto destinato l'idea qual'era? L'idea era semplice era formiamo persone con disabilità e caregiver perché loro siano in grado di stamparsi da soli i presidi non basta che noi abbiamo preso 250 soluzioni e le abbiamo messe in open source il problema è il mondo dell'isabilità non lo sa e tu hai un bel dire vai in un fab lab ma la gente non sa cosa siano i fab lab non lo sa necessariamente non ha voglia e poi soprattutto domanda cruciale i fab lab sono posti accessibili e non dico accessibili solo in termini di rampe ma sono posti mentalmente accessibili sono posti aperti alle comunità sono posti dove può entrare una persona di 75 anni dire mi si è rotto un telecomando e qualcuno non ti manda a quel paese questa è una domanda cruciale sono posti interessati a mettersi in contatto con le comunità locali non sempre quindi l'idea era proviamo a costruire dei modelli di disseminazione dei modelli di crescita che siano basati sulla costruzione di comunità locali e questa cosa l'abbiamo chiamata capability lab è stato un lunghissimo corso di formazione di cui Beppe è stato uno dei pilastri e ha questo corso di formazione con grande sorpresa a un certo punto oltre a qualche papà di persone con disabilità abbiamo invitato ovviamente quelli che ci sembrava potessero diventare degli hub rispetto alle loro comunità quindi papà dentro le associazioni eccetera sono presentate per lo più signore ma è un fatto totalmente legato a una caratterizzazione di genere di quel lavoro che ci hanno raccontato che loro facevano un mestiere bellissimo che è il terapista occupazionale che per intenderci sono quelle persone che non si occupano di rimettere a posto persone che tipicamente hanno avuto lesione midollare ma non solo insomma le disabilità non le mettono a posto dal punto di vista fisico ma gli rinsegnano a fare le cose gli rinsegnano come rapportarsi con l'ambiente e quindi gli rinsegnano come dopo una lesione midollare che magari ti ha bloccato una mano tu puoi tagliare una bistecca farti la pasta farti un bidet tutte cose non del tutto banali in termini di autonomia muoverti vestirti lasciarti le scarpe ovviamente non sempre se ti sapeggio è dura lasciarti le scarpe però gli insegnano il più possibile l'autonomia che è fatta anche di tecniche ed è fatta anche di oggetti di soluzioni cioè di quelle che vengono chiamate ortesi allora queste signore vengono a noi e ci dicono siamo venute da voi perché noi oggi queste ortesi le realizziamo con le termoplastiche ne facciamo tante lavoriamo negli ospedali non è che lavoriamo lavoriamo negli ospedali in particolare Elena Pescamone lavorava al CTO di Torino che è uno dei più grandi ospedali dei più grandi reparti più grandi in senso di persone che ci sono dentro fisicamente nel senso di in senso di competenze non lo so ma sicuramente con numeri elevatissimi d'Italia c'è tantissime persone lesionate a midollare che finiscono lì e le realizziamo con le termoplastiche e ci mettiamo tanto perché le facciamo come dicevo prima una per una e costano molto care perché le termoplastiche sono plastiche modellabili come sembrano la plastilina ma in realtà sono fatte a fasce devi girarle sono estremamente costose molto molto costose quindi ci mettiamo tanto e sono care e vorremmo lavorare vorremmo imparare a stampare in 3D per ridisegnarle in 3D ve lo ricordate e quindi fare in modo che siano costumizzabili perché se sono dei disegni li modifico più facilmente non li devo rifare mi basta modificare un disegno e perché i materiali costano meno questo ha fatto nascere quel progetto che ad oggi non è simbolicamente il più importante perché magari è stato più importante Barilla magari è stato più importante Toyota però è quello che sicuramente ha un maggiore impatto sociale ha fatto nascere un progetto che si chiama Tech for Inclusion per cui noi abbiamo ridisegnato con 3 unità spinali del Piemonte che sono Torino Novara e Alessandria tutti gli oggetti che lo realizzavano in termoplastica mi sentite quando ho sposto inavvertitamente il microfono tutti gli oggetti che lo realizzavano con le termoplastiche li abbiamo ridisegnati in particolare Marco Maurizio che oggi non c'è più tanti tanti amici siamo tanti tanti ragazzi che facevano stagio Simone abbiamo ridisegnato mi pare 14 oggetti che loro tipicamente facevano in termoplastiche e quindi li abbiamo resi costumizzabili parametrici questa penna è lunga così non devo rifarla mi basta cambiare un parametro un applauso ragazzi adesso adesso e quindi adesso ricomincio da capo no poi vi faccio velocissimamente vedere quello di cui stavo parlando diciamo adesso però è un pdf come mai ah cazzo allora il vecchio uso le stampanti ecco la forchetta di cui parlavo gli oggetti costumizzati questa è la mano di Alice un bottone a scansione che è un oggetto domotico molto caro che costa 1200 euro rifatto con 80 euro i primi tentativi c'è una metodologia il lavoro il primo evento l'evento di coprogettazione nel 2014 l'articolo di Wired andando velocissimo l'ingresso antropolitecnico questo è un team per il Politecnico il lavoro con Barilla a Parma coinvolgendo quasi 90 persone scusate così il lavoro fatto con Barilla molto bello poi ecco c'era un eletto molto bello da raccontare sulla White Boss magari lo raccontiamo dopo che è una scatola per la pasta per i ciechi per i povedenti il ragionamento alla fine di tutto questo su tutto quello che facciamo cioè cominciamo a renderci conto di tutto quello che capita nella coprogettazione e la costruzione del modello di Hability che è questo questo è il modello adesso è passato qualche anno però il modello noi sostanzialmente proponiamo cioè Hability serve a coprire la coprogettazione serve a costruire un set di attività e probabilmente a questo lo sviluppo della nostra vision cioè sviluppare tecnologie design impatto sociale e della mission che è usare il co-design per sviluppare nuove soluzioni inclusione e via discorrendo sempre nuovi lavori come raccontavo il tema della valutazione di impatto che a noi è servito moltissimo sia per capire come lavoravamo mi piace fare questa ricapitolazione mi sono messo un professore e quindi sia per capire come lavoravamo e anche senza girarci attorno per proporci all'esterno che quindi l'apertura di possibilità anche per comunicazione proposta non è proprio banale come ti propone all'esterno cioè adesso non basta fare delle robe carine cioè puoi andare all'esterno e ti offro un modello delle metriche e dici guarda io uso delle metriche di valutazione quando ti dico che ho un impatto sociale dopo te lo misuro se ne puoi discutere se sia interessante oppure no però è molto interessante e chi fa resistenza rispetto alle metriche secondo me sbaglia perché servono tanto per capire se stai effettivamente realizzando quello che pensavi è solo una questione di racconto e anche per voi capire ma io ho raggiunto gli obiettivi che mi ero dato il lavoro per Juventus il lavoro sulla mobilità con con Toyota e il lavoro per Baladen che è questo grande berrificio che raccontavo prima sull'accessibilità dei spazi pubblici il primo camp quello fatto a Barriera di Milano vedete lavorano persone cieche e povedenti che ha portato alla realizzazione di queste di queste targhe che oramai sono curiosamente uno dei punti di forza nel senso che sono targhe per ciechi e ipovedenti che però che quindi permettono alla persona cieca e ipovedente quando arrivano in un locale pubblico di capire di avere delle informazioni tattili se sei ipovedente di avere delle informazioni perché sono colori a contrasto se invece sei cieco totale di avere delle informazioni tattili la cui caratteristica siamo stati i primi a stamparle in 3D non senza superare alcuni problemi tecnici chi si chiude la stampa lo sa non è proprio banale cioè sembra semplice però poi i casini si annidano nei posti più strani e questo ad esempio è un grande successo sia dal punto di vista didattico perché è un oggetto che piace ragazzi realizzare ma anche nel rapporto con le comunità locali le comunità locali la città è un grande tema anche perché è in forte crescita è proprio anche l'ipovedenza proprio legata all'invecchiamento della popolazione e ne stiamo facendo veramente tante l'esperienza su Parigi che non l'ho detto ma è stato affrontato un tema bellissimo è un po' marginale rispetto a che è il design del cibo cioè l'oggetto del lavoro su Parigi è stato come si renda accessibile il cibo che non l'ho detto è un tema molto interessante perché noi pensiamo che il cibo cioè noi quando pensiamo al cibo pensiamo alla tradizione in realtà anche gli oggetti anche le cose della tradizione li ha processati qualcuno cioè c'è una ragione per cui il maccarone ha quella forma lì e non ne ha un'altra solo che non siamo più in grado di individuare perché è splittato indietro nel tempo perché è stato fatto in quel modo c'è una ragione consuetudinare ma c'è una ragione uno dei grandi temi del futuro pensando alla disabilità è se si può riprogettare il cibo se ha senso riprogettare il cibo cioè fare del cibo che è più facile da mangiare più facile ad esempio e questo è un lavoro molto carino ve lo illustro tra i lavori è sempre bello perché è un lavoro fatto da un team di ragazze cinesi che studiavano a Parigi però sono ragazze cinesi che lavoravano con una ragazza che aveva degli spasmi alla mano molto forti che quindi non riusciva a tenere in mano le gallette perché aveva gli spasmi muscolari che gliele rompevano e se volete sembra retorico ma tutti quei tutti quei questi punti di fuga che poi servono anche per rompere non sono casuali annientano le forze cioè questo oggetto qui è molto più forte perché per dire quindi si possono anche progettare delle cose interessanti anche guardando al futuro su temi davvero di innovazione il lavoro a Shanghai molto bello il lavoro a Parma dove è Daniele? ah ecco si dice che fa le riprese che loro hanno condotto e hanno condotto tra l'altro usando per la prima volta il set che è stato fatto in larga misura lavoro molto bello sull'accessibilità museale che loro hanno condotto e hanno condotto siccome erano online perché c'era il covid-19 il primo quello di One quello veramente cattivo non che questi siano buoni ma insomma faceva più paura e hanno usato usando per la prima volta il kit di coprogettazione che hanno sperimentato per primi e hanno dato un contributo fondamentale e quindi poi tutto il lavoro il resto fatto online questo raccontavo arrivo al punto noi su questa roba qui abbiamo avuto tantissimi riconoscimenti non è che siamo passati del tutto inosservati siamo rappresentati l'Italia al Festival di Madrid del design abbiamo vinto loro tra l'altro specificatamente hanno vinto proprio il primo premio hanno vinto una mezza l'ozina tra menzioni premi eccetera eccetera Parma ha vinto il primo premio di un premio make to care che è fatto una grande abbiamo preso il compasso d'oro che nel mondo del design è una menzione speciale è un premio pazzesco molto importante nel mondo del design e che tra l'altro ci sono candidati un po' per caso vediamo qui non è che siamo passati inosservati e abbiamo costruito soprattutto un modello di sostenibilità che secondo noi in larga misura è legato alla vision e alla mission cioè il modello di sostenibilità che per molto tempo è stato legato anche al rapporto con le imprese è stato dire guardate che facciamo open innovation e dimostrarlo e quindi andare a fare quella proposta lì alle imprese non una proposta siamo bravi attenzione allora da tutta questa esperienza qui poi diciamo il lab e qui vi faccio vedere alcuni dei lavori fatti con le unità spinali che sono quelli su cui oggi stiamo lavorando di più tra l'altro e su cui procederemo tutto il 2023 perché sono quelli che hanno davvero maggiore impatto per intenderci unità spinali di Torino 200 ortesi da luglio a luglio Alessandria 70 ortesi da luglio a luglio Novara per una ragione tecnica hanno spostato alcune persone 20 ortesi da luglio a luglio 200 ortesi sono tantissime sono 200 persone che sono uscite con una roba in mano disegnata progettata in lo tempore spesso dalle terapiste riprogettata da noi sono 200 persone che escono con una roba in mano che gli aiuta a vivere meglio e adesso stiamo lavorando sull'accessibilità in cucina stiamo sviluppando nuove forchette questo è un impatto oggettivo perché non è che la gente se la deve scaricare dal sito gliela danno in ospedale e quindi come dire gli cambia un po' la vita questa come vedete è una spazzola per pettinarsi questo per mettersi i bottoni gli altri lo saltate oggi il nostro progetto di punta è l'Inclusive Lab che abbiamo aperto a Torino noi non abbiamo mai avuto uno spazio vero di prototipazione abbiamo un laboratorietto dentro il Politecnico di Torino abbiamo deciso di aprire questo Inclusive Lab e l'abbiamo chiamato Inclusive proprio pensando da un lato alla disabilità ma dall'altro all'idea dell'inclusione cioè vogliamo un laboratorio aperto non vogliamo un laboratorio di una comunità di smanettoni contro cui ovviamente non abbiamo nulla vogliamo un laboratorio di smanettoni forti ma deboli vogliamo un laboratorio dove possono entrare veramente tutti e quindi vogliamo essere inclusivi è il nome che gli abbiamo dato ma l'Inclusive Lab non è la sede di Hability l'Inclusive Lab in realtà è un progetto di Hability che noi mettiamo a disposizione di altri tipicamente studenti laureandi e quant'altro a cui noi finanziamo il progetto mettendole a disposizione per sei mesi un anno tre mesi e a settembre ottobre inizieremo con le call adesso sono entrati due gruppi di lavoro diciamo in modo come dire un po' sul passaparola un po' legati alle reti adesso iniziamo con delle call pubbliche perché l'altro elemento se vuoi essere inclusivo è che non lavori con gli amici lavori con la gente brava che non conosci perché se no ci chiamiamo sempre tra di noi ecco perché vi raccontavo tutto questo e poi ho finito davvero io credo che questa esperienza qui abbia una sua importanza ma noi crediamo anche che abbia un'importanza in generale nel mondo dell'innovazione questa è la grande metafora dell'innovazione la folesta pruviale dove tu butti un seme dove crescono dove crescono le cose facilmente dove tutte le cose capitano da sole cioè se apri un fab lab crei innovazione se apri un co-working crei lavoro ma non è così non è così perché adesso perché la foresta pruviale vista da vicino è molto più incasinata di come ce la immaginiamo e non è facilissimo camminarci dentro quindi per stare e avere un impatto nel mondo dell'innovazione bisogna avere secondo noi delle strategie delle linee quantomeno quelle che ho prima una vision una mission da perseguire una proposta di valore da fare alla community e bisogna riuscire non dico ad arrivare a questo però questo non va bene non funziona e secondo me questo noi lo stiamo vedendo spesso lo vediamo spesso c'è una difficoltà allora HBZ secondo me nel suo aver costruito un percorso che ha costruito dei modelli che si è scontrato con la valutazione che ha costruito un modello di funzionamento che si è dato dei parametri di valutazione secondo me è veramente un caso virtuoso ma lo dico magari chiudiamo dopo domani però è un caso virtuoso perché in qualche modo come dire è uscito dalla dimensione della casualità domani litighiamo furiosamente da tutti noi e chiudiamo in un secondo ma però siamo usciti dalla dimensione della casualità dell'accidentalità delle cose che succedono anche sul tema disabilità dove oggi c'è la tensione è aumentata in larghissima misura lo dico senza c'è il cittorno anche per merito nostro io credo che su quello noi almeno almeno su Torino e in parte su Milano Milano ha un'altra storia su Torino abbiamo avuto un impatto pazzesco cioè noi oggi noi seguiamo decine di ragazzi che fanno tesi sul tema di disabilità e lo fanno perché ci siamo noi e quindi stiamo proprio avendo un impatto culturale notevole probabilmente anche su altre città in modo diverso però la cosa più importante che abbiamo fatto è la costruzione del sistema del path della strategia e questo credo che possa essere un segnale molto importante al mondo dell'innovazione soprattutto al mondo dell'innovazione del basso che dicevo prima le cose spesso le fa casualmente ci sono anche altri fab al makerspace o laboratori creativi che hanno lavorato sul tema ma non avere un metodo non è proprio banale perché magari tu fai anche una roba carina però il problema è che non riesci a capire se quella roba lì funziona o non funziona se ha impatto o non ha impatto se veramente entra nella vita nelle persone oppure no certo è risolto il problema di Giorgio ma non sei in grado di valutare se il problema di Giorgio risponde ad esempio al problema di tanti altri e quindi poi non riesci a dargli continuità e io credo e credo che tutti quelli di accountability tra l'altro noi su questo abbiamo costruito un'associazione su cui ci ragioniamo molto da qualche tempo in Piemonte abbiamo costruito un'associazione che si chiama MACP che sta per me che in Piemonte ma che è anche un gioco di parole perché MACP è una tipica locuzione piemontese che tutti i piemontesi sono convinti che si dica in tutta Italia che l'espressione è solo più gli mancano solo più cinque minuti chiunque vive a Torino è convinto che sia un'espressione italiana in realtà non lo è quindi c'è un gioco di parole che capiamo solo noi sostanzialmente poi te lo spiego meglio però chiunque abbia avuto a che fare con Torino ah sì quindi abbiamo dato questo buffo il gioco di parole su una locuzione dialettale linguistica e stiamo proprio ragionando su questo cioè sul quanto il fab e il maker space siano tra virgolette palestre luoghi dove trovi delle macchie che tra l'altro guarda intercettano perfettamente le cose che tu stessi io non facevo segno di così ma non era per piageria siano palestre cioè dove trovi delle macchine e dove costruisci delle community basate sul self empowerment o comunque e invece quanto siano dei luoghi che sviluppano progetti che però è una cosa un po' diversa allora quello che noi ci stiamo dicendo è questo siccome i temi da affrontare in futuro noi abbiamo individuato uno che è il tema come dire dell'accessibilità che lo raccontavo prima è un tema gigantesco perché investe l'invecchiamento della popolazione oltre che le persone con disabilità quindi è uno dei grandi temi noi andiamo verso una società che vogliamo sia più accessibile lo vogliamo per noi perché invecchiando anche noi non finiremo probabilmente con sedia a rotelle probabilmente ma probabilmente ci vedremo meno probabilmente avremo problemi di handing probabilmente avremo alcune disabilità legate all'invecchiamento sarà sempre di più così è inevitabile quindi vogliamo una società più accessibile questo parla anche con il mondo della disabilità che è disabile dalla nascita o disabilità per incidente probabilmente è una grande paradossalmente un'opportunità gli Stati Uniti sono diventati un paese accessibile dopo la guerra del Vietnam perché quando sono visti arrivare migliaia di ragazzi come dire lo dicevo prima ragazzi in sedia a rotelle di colpo hanno avuto un problema di accessibilità diciamo l'invecchiamento della popolazione potrebbe essere per l'Italia quello che è stato il nostro Vietnam e quindi però creare un beneficio per tutti però siccome però i temi da affrontare dal basso con la comunità sono moltissimi e oggi non hanno un luogo di discussione cioè noi ne abbiamo individuato uno ne abbiamo intercettato uno e ci sono state delle traiettorie però sono tantissimi uno è la libertà della rete no? cioè tutti noi diciamo internet pensiamo che internet sia un po' come il lavandino l'acqua nel lavandino appare fatto hanno provato privatizzare anche l'acqua quindi la metafora però non è proprio così perché oggi tutti sappiamo come dire che l'accesso o il non accesso ad alcune tecnologie determina opportunità oppure no c'è una bella differenza davvero un posto ma non solo perché guardi o non guardi Netflix ma perché mandi o non mandi un curriculum hai o non hai informazioni sta diventando cruciale riesce o non riesce a studiare addirittura il lockdown questa cosa come dire resa palese cioè tra chi aveva tecnologia e chi non l'aveva ma guardate che però e su questo non c'è una riflessione vera guardate che la tecnologia non è distribuita in modo uniforme nei suoi territori e paradossalmente parlo della rete e tu sai benissimo nei progetti ci sono di open source su internet che però di cui paradossalmente sono sempre all'altre come se non fosse cose importanti invece sono cruciali perché le corporate non sono neutrali la rete c'è dove ci sono tante persone c'è più campo in via Roma a Torino nel centro della città semplicemente perché ha migliaia di utenti che non nei pasini di montagna che ne avrebbero bisogno perché è lì che è un problema di comunicazione di connessione col mondo e credo tra l'altro guardato la mappa dell'Italia anche la Basilicata non è messa benissimo poi ho guardato la mappa del sistema e per dire è di queste cose di chi si occupa dal basso cioè chi è che organizza le competenze tecnologiche dei cittadini c'è il tema dell'invecchiamento in stretta relazione con in stretta relazione col tema dell'accessibilità però un altro tema che ad esempio ci si occupa pochissimo le persone le persone che hanno bisogno di formazione tecnologica guardate che si parla tanto di formare i giovani le tecnologie è molto più interessante formare la terza età le tecnologie è molto più importante che una persona riesca a scaricare la sua cartella clinica dal sistema sanitario nazionale senza prendere la macchina per 30 chilometri è una roba inutile è molto e questa roba qui però come dire e noi l'abbiamo vista durante il lockdown abbiamo fatto un progetto Giuseppe tra l'altro è stato addirittura il testimonial visivo è finito in televisione dove abbiamo provato a insegnare ma perché è bello e così non sappiamo di cosa Giuseppe stia parlando c'è un tema pazzesco della conciliazione e del gender gap rispetto alle tecnologie che è un'altra roba di cui non parla nessuno noi che siamo un'associazione che in realtà siamo al 90% uomini cioè non riusciamo a trovare è un tema vero e c'è un gender gap sulle competenze tecnologiche che è pazzesco c'è un tema del lavoro e poi ho quasi finito c'è un tema del lavoro perché abbiamo costruito i co-working dove le persone lavorano assieme ma non abbiamo costruito i collab e oggi che c'è un'espulsione delle attività artigiane dai grandi centri urbani per ragioni di conflitto di conflitto di interessi nessuno vuole avere sotto casa il ciabattino o quello che svernì le attività artigiane non sanno più dove andare però attenzione almeno nelle grandi città io non conosco tutti gli indicatori invece c'è una richiesta fortissima di ritorno alle attività artigiane perché ad esempio sono quelle che rispondono al bisogno di riciclo di riuso e di risparmio e quindi ci sono tutti questi temi e tutto questo viene gestito tipicamente senza che ci siano luoghi dedicati a occuparsene della banda larga si occupano le corporate secondo logiche eminentemente economiche e non potrebbe essere diverso e delle gig economy si occupa l'ancome il termine gig economy è stato cognato sul New York Times mi pare nel 1994 1996 non me lo ricordo neanch'io perché è un neurone che mi si è fulminato quando hanno detto c'è una vecchia in copertina ed era Isabella Rossellini che per la prima volta tra l'altro discutiamone per la prima volta c'era una una modella che aveva compiuto 40 anni per la prima volta c'era un prodotto associato a una modella che aveva compiuto 40 anni quindi direi allora quello che quello che secondo me verrebbe la pena di ragionare tutti quanti assieme noi ci stiamo facendo tentativi è dove sono i luoghi dove si ragiona su queste robe qua cioè dove sono dove è lo spazio di mediazione tra comunità locali però alle comunità ti devi aprire se no la mediazione non c'è tra i visioni delle comunità e ragionare sulle tecnologie oggi questo luogo i proposti di fatto non ci sono noi abbiamo presidiato e credo bene il tema disabilità e tra l'altro abbiamo tantissimi con disabilità però sono un migliaio di temi che si potrebbero affrontare e bisogna farlo probabilmente dandosi delle traiettorie delle vision degli strumenti degli strumenti di valutazione di impatto delle idee qualcosa che ti permette di andare in giro e dire non proviamo a fare cose ma abbiamo dei progetti che si basano su dei bisogni che rispondono ai risultati e io credo che Fabla Makerspace e chiamiamoli Pinco Pallo perché poi potrebbero cambiare nome ma il fatto che ci sia bisogno oggi più che mai di luoghi di mediazione tra le tecnologie e le persone ancor più che per le imprese questa retorica pazzesca le imprese vengono a noi imparare ma non è vero è più la comunità locale che bisogna imparare l'impresa quindi direi sì ni a volte sì a volte no ma invece potrebbe essere una chiave di lettura del futuro e sicuramente intercetta un bisogno emergente io credo che la storia del capire ti lo dimostri grazie Carlo scusaci per il disagio chiediamo scusa anche al pubblico per questa cosa qui no sei abbastanza bravo per spiegare tutto anche senza immagini poi alla fine penso che abbiamo recuperato quanto tempo abbiamo Giuseppe per il dibattito ok quindi io ti faccio una domanda quanto io vengo da una formazione economica quindi mi interessano anche questi temi della effettiva fattibilità poi dei progetti quanto secondo te affrontare questi temi può prescindere dall'interfacciarsi con delle attività di impresa più radicate ad esempio voi il tema della disabilità l'avete affrontato anche con Barilla con Juventus con Toyota ad esempio il tema della diffusione internet quanto può prescindere dall'Elon Musk di turno che piazza i satelliti intorno alla terra e porti poi questo faccio un esempio e parlo di nuovo del Piemonte ma prego lo conosco meglio chiedo scusa allora qualche anno fa in una zona del Monferrato che è una zona di radata di casette è nata un'associazione che ha sede a Verroa Savoia che si chiama Senza Fili Senza Frontiere che curiosamente ha deciso di fare un'associazione andando in deroga a quello che è il regolamento nazionale dei provider e hanno incominciato a montare hanno fatto un accordo con una società che gestisce i nodi che si chiama Topics che è un consorzio e hanno incominciato a portare non banda perché usano i ripetitori però banda dal nodo e poi i ripetitori in posti dove la banda non c'era e portano la banda agli associati questa roba qui da quel che ne so fino a qualche a un annetto fa permetteva di avere in luogo dove tipicamente non c'era connettività la connettività è incredibilmente anche a un costo più contenuto perché non c'era il modello di profitto quindi io non devo guadagnare mi basta mantenere l'infrastruttura e comprare il servizio allora questa roba che loro per ragioni che io non so hanno deciso di fare come un'associazione è proprio la cooperativa di consumo è la cooperativa di consumo e la figlia è proprio come dire la cooperativa di consumo ottocentesca cioè proprio alle basi del movimento cooperativo cioè io ho un bisogno e mi metto d'accordo con persone che hanno bisogni simili al mio e costruisco anche il modello di sostenibilità e tendenzialmente costa meno questa roba sappiamo tutti ha costruito anche mostri però ha costruito anche esperienze bellissime allora io sono sempre stupito dal fatto che non stiano fioccando e tra l'altro abbiamo pensato anche di farne una ma poi non è che si possa far tutto lo stesso gruppo di persone non può far tutto se no non ce la fai però io sono stupito dal fatto che non stiano fioccando in Italia visto che si possono fare e tra l'altro se fossero cooperative invece che associazioni come dire sono società profit solo che sono cooperative cooperative di consumo che gestiscono la tecnologia cioè non mi arriva la banda mi metto d'accordo con altri 200 soggetti e c'è una cooperativa di consumo e vediamo se si può fare allora perché non stanno fioccando in realtà perché non lo propone nessuno e perché e chi dovrebbe proporlo secondo me sono i ragionamenti tipici di una comunità tecnologica che dal basso si organizza e trova soluzioni i problemi posso fare una provocazione secondo te lo Stato in tutto ciò si potrebbe arrogare il compito di tra virgolette imporre che certe zone siano servite da da questi servizi così come è è stato storicamente per il servizio postale che servizio universale tutelato prima dagli Stati poi dall'Unione Europea deve garantire che appunto il sistema postale nazionale garantisca questo tipo di servizio anche nel paesino sperduto del Trentino Alto Adige può da sola una comunità prendere coscienza in maniera duratura di questi problemi e autosostenersi secondo te poi entriamo nel campo delle opinioni personali allora ma le due cose non sono in contraddizione cioè noi abbiamo regalato le stampanti 3D alle unità spinali del Piemonte con un sistema sentiero nazionale che ha un bilancio da paura io come dire però intanto abbiamo risolto un problema che è un problema abbiamo risolto un problema che riguarda e dietro c'era anche un problema tecnico perché oggi ad esempio la stampa 3D non viene riconosciuta come presidio biomedicale non lo possono fare perché possono comprare una macchina per fare i raggi ma non possono comprare una stampante 3D è giusto sbagliato le burocrazie sono così sono complicate ci mettono anni per far entrare l'innovazione anche l'idea che l'innovazione sia una roba semplice ma non è semplice per niente poi metti un'azienda un'impresa innovativa non elenco fornitori un'impresa tradizionale non riesci neanche a trovare i campi e quindi non lo fai però le due cose non sono in contraddizione però io dico in linea di principio potrei essere d'accordo con te però noi siamo anzi sono in d'accordo con te io penso che dovrebbe esserci io penso che dovremmo acquisire il fatto che ad esempio la connessione di rete è come l'acqua è come l'acqua è pubblica dovrebbe essere pubblica la connessione di rete però non è così non è così ed è sostanzialmente appaltata ai privati per fortuna l'acqua no e l'abbiamo visto adesso che per fortuna no non so quanto sarebbe costata metro cubo durante questa lunga estate allora nel frattempo però tutte le soluzioni le puoi trovare e fine e poi magari fai anche una battaglia per cui questa infrastruttura di rete venga fatta propria dalle regioni venga resa pubblica non lo so poi distruiamo le modi però è strano che su questi e poi non diventa i tre ma sono diecimila c'è il tema delle soluzioni per l'inquinamento ce ne sono diecimila però il tema è chi se ne occupa ma non chi se ne occupa a livello di elaborazione politica chi se ne occupa dal basso chi ragiona con le persone su queste robe qua sono tutti temi non sentiti ma guardate occhio anche il tema della disabilità della costumizzazione sulla disabilità non era molto sentito quando abbiamo iniziato adesso è un tema almeno nelle comunità di persone con disabilità che frequentiamo noi abbastanza nell'agenda non al primo posto però c'è l'incominciare a parlare di una cosa allora io lì dentro e questo è un pezzettino che oggettivamente manca cioè parliamo di tutto tranne che dell'impatto della tecnologia nella nostra vita anche quando è evidente allora io penso e magari mi sbaglio clamorosamente che lì dentro ci possa essere un pezzo della vocazione futura di Fabio al makerspace o cipoletti cioè chiamiamoli come vogliamo cioè nel problema non è trovargli un nome e capire se ci sono delle comunità di persone che hanno competenze tecnologiche che hanno riflessioni sulla tecnologia che intercettano bisogni ne parlano con la comunità locale e trovano soluzioni se dal punto di vista economico tu ti poni il problema della sostenibilità io ti dico che se tu trovi soluzioni a problemi reali spesso non sempre la sostenibilità la trovi pure prima o poi la trovi cioè in qualche modo salta fuori perché rispondi ad esempio noi non ci siamo ancora posti nel caso della banda larga mi sembra evidente ci sono dei modelli nel nostro caso noi abbiamo scelto di stare fuori dal mercato esiste anche un mercato etico e non dico il mercato quello cattivo però potenzialmente i modelli di sostenibilità economica li potresti trovare quindi il problema non è avere prima le risorse prima individua un problema e poi proviamo a capire se ci sono dei modelli grazie allora Lorenzo voleva fare un intervento però siccome abbiamo poco tempo e abbiamo parlato di coprogettazione democraticità e robe di questo genere vorrei dare la precedenza al pubblico se siete d'accordo se ci sono domande in realtà siccome si è parlato del caso specifico di come una comunità gestisce un bisogno e di come si è parlato a livello di infrastruttura di come costituire come risolvere un problema dell'accessibilità internet per esempio noi avendo rilevato che per esempio dove il confino il campeggio dove siamo come avrete notato non ha una connessione a internet così come molti altri posti abbiamo cominciato a lanciare o meglio a far parte di uno dei network che intende creare comunità che prendano consapevolezza degli strumenti di rete per poi collegarsi alla rete ed è Linux non so se qualcuno di voi lo conosce che è un progetto di diciamo internet libero dove ognuno di noi dovrebbe mettersi un proprio hardware a terra delle antenne eccetera e costituire un nodo accessibile che va da ripetitore per gli altri nodi quindi se io e Carlo casa mia insomma è casa di Carlo comunicano o meglio non comunicano posso passare per casa di Lorenzo e tra me e Carlo Lorenzo detta in breve quando abbiamo lanciato questa cosa nel 2015 16 noi abbiamo comprato hardware acquistato cominciato a cercare di parlare per esempio nella nostra piccola esperienza forse si riconduceva un problema di coscienza collettiva di comunità o di non lo so potremmo ricondurla anche un familismo ammurale ma qua apriamo un problema le persone poi ci chiedevano ah e perché io devo acquistare dell'hardware e tu hai voglia a spiegargli ma serve perché poi è tuo se domani non lo so il governo decidi di toglierti internet tu hai un tuo palo e continui a comunicare con queste persone il limite è stato per esempio per noi che le persone ci hanno chiesto ma perché ti sto dando questi soldi mi dai internet gratis poi e io no non è quella la mia finalità con tutto che poi una volta che tu hai una serie di nodi collegati puoi andare da un provider e dire senti io voglio una connessione di questo tipo di livello forniscimi questo cavo il resto me la vedo io lì in stradamento al paese lo faccio io noi qui non ci siamo riusciti cioè adesso abbiamo dell'hardware per costruire questa cosa sbagliamo sicuramente da qualche parte ci siamo fermati qui so perché tu hai fatto un esempio piemontese di chi ha risolto questo problema so di per alcune persone in Basilicata di un paese non mi ricordo adesso il nome il progetto che hanno risolto in questo modo si sono riuniti hanno raggiunto un numero minimo di persone interessate a e hanno costituito esattamente questa cosa però noi invece abbiamo un caso fallimentare dove abbiamo l'hardware abbiamo le competenze ma non siamo riusciti a trasmettere il vanno cioè nei casi che conosco io e non conosco la Basilicata tu diventi il provider tu non vai a dire a uno adesso noi costruiamo sulla partizione di rete che tra l'altro tecnicamente in Italia è vietata come dimostra l'esperienza di FON che in Italia è vietato perché i provider privati dicono no io la partizione di rete non la voglio non si può fare se ti beccano la polizia postale ti mette dentro ma una cosa e dire io faccio la partizione di rete per il collegamento che ho quindi condivido con te il mio collegamento Vodafone 3 eccetera eccetera un conto e dire no ragazzi non avete capito io divento Vodafone io divento Vodafone cioè adesso mi rendo conto che non è semplice e tra l'altro è molto più semplice dove la rete non c'è non dire è una rete che funziona meglio cioè io divento io divento il provider non detto che sia semplice però è una cosa diversa io divento il provider e perché ci devo entrare perché ti costa meno perché se facciamo una provider che non ha finalità di lucro verosimilmente a te la connettività costa meno perché non c'è la finalità di lucro finita gruppo vuol dire mutuo soccorso 2.0 o 4 2.0 4.0 sarebbe altro due mutuo soccorso 2.0 cooperativa di consumo ottocentesca non è è lì che secondo me ma con questo non voglio dire che il progetto che dicevi tu sia brutto dico semplicemente che è un ragionamento un po' diverso e qui forse sta tal no e poi magari non funziona però io sono stupito dal fatto che non sia il ragionamento all'ordine del giorno mi sono rotto cioè un quartiere si rompe le scatole di avere una cattiva ma anche in un centro urbano in una comunità si mette d'accordo adesso ce la facciamo noi e non ci partiamo la rete capisci e questo è possibile ci sono altri interventi dal pubblico? domande? no? Lore tutto tuo no grazie questo mi vuole va bene no io volevo tornare un po' a quello e al punto di partenza ovvero all'accessibilità e ai disabili e partire da una piccolissima premessa e poi farti due domande precise allora la premessa è in Italia c'è un sacco di persone che parlano di disabili io ho lavorato con un insegnante di sostegno chiunque abbia lavorato in un contesto in cui ci sono dei disabili sa che ci sono un sacco di persone in Italia che parlano di disabili e pochissime persone in Italia che parlano con i disabili questo mi sembra un punto di partenza fondamentale uno ad essersi espresso molto lucidamente tanto tempo fa su questo argomento era Franco Basaglia che disse io ho un mandato sociale ho un mandato istituzionale di trattare con degli individui che sono istituzionalizzati quindi ricevono la loro definizione la definizione del loro bisogno di quello che ci si deve fare da fuori dall'istituzione di cui io sono funzionario dispensatore di un modello di salute che ha creato dalla produzione dal capitale da quello che si vuole come rompo nella sua posizione militante come rompo la mia adesione a questo mandato sociale mandato istituzionale rimandando la domanda ai soggetti dei quali mi devo fare carico e io mentre tu parlavi pensavo insistentemente a questa cosa perché quello che avete fatto voi con la tecnologia è appunto ribaltare il processo di ragionamento sulla disabilità in un processo di ragionamento che parte dalla disabilità e è con la disabilità che mi sembra una rivoluzione che prima di essere tecnologica è una rivoluzione nell'approccio al problema quindi che ne so parlando di età invece di ragionare sugli anziani ragionare con gli anziani eccetera 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 questo mi sembra da sottolineare credo sia anche una delle matrici del vostro poi successo generale perché è in un modo ovvio che si trovano delle soluzioni si trovano intelligentemente delle soluzioni anzi si trovano delle domande dei problemi che non si sarebbero individuate altrimenti ma in secondo luogo che oltre a fornire al disabile la soluzione gli si offre una posizione proattiva nella soluzione del suo problema non è arrivato uno a individuargli il problema e a risolverglielo ho partecipato nel fatto e anche se il problema non è il tuo soprattutto se il problema non è il tuo se è la comunità per esempio a occuparsi di accessibilità vedi che questa proattività fa da collante perché ci siamo trovati non come vicini di casa non come concorrenti ma come collaboratori e questo fa tantissimo secondo me questa è una cosa da sottolineare lo volevo fare a prescindere da quello che poi tu dirai su questo argomento la seconda cosa è sulla tecnologia che vi ha permesso di lavorare cioè il momento in cui una tecnologia si lascia dietro o meglio non usa prende un ramo diverso rispetto alla produzione in serie cioè laddove la produzione in serie ti serve per una soluzione a mille problemi una soluzione che tu produci in serie che deve servire a mille problemi qui hai un adattamento una personalizzazione una personalizzazione una customizzazione dei prodotti che può essere portata al suo massimo risultato quindi io ti volevo fare queste appunto due queste due questioni una era solo una sollecitazione quella su Basaglia quella sulla tecnologia è siamo arrivati a uno stadio in cui almeno una parte della tecnologia può lasciarsi dietro il paradigma della produzione industriale in serie per diventare qualcosa di molto più cioè che può veramente avere un interlocutore umano caso per caso ti rispondo in ordine poi allora molte delle cose sono opinioni quindi sono un futurologo allora io credo che ci sia una tantissima retorica la io non ci credo nella mass customization salvo il fatto che poi esiste però esiste sempre nei campi che ci interessano ad esempio i mass customization sono gli occhiali cioè perché noi facciamo finta gli occhiali sono il massimo esempio esistente in questo momento al mondo di mass customization se tu ed io ci scambiamo gli occhiali probabilmente non funzionano quindi la mass customization già esiste ed esiste perché sono riusciti a fare le lenti più o meno in serie però vi direi quindi esiste già il meccanismo di costumizzazione secondo me funziona dove ce n'è bisogno cioè l'idea noi siamo grati alla produzione di massa se no non tutti riusciremo ad avere le scarpe la t-shirt i pantaloni e probabilmente neanche a sfamarci per fortuna la produzione di massa ci ha aiutato però ci sono dei casi in cui la produzione di massa non funziona allora io ho trovato credo che la prima nostra intuizione è stato vedere un caso dove c'era un'effettiva e immediatamente dimostrabile applicazione delle costumizzazioni ed è laddove le persone non rispondono a quel cliché di uomo vitruviano che ha quattro taglie small, medium, large che non è vero non è così e ha cinque taglie di piede che non è vero e a questo la disabilità lo aumenta perché non sei più l'uomo vitruviano su cui puoi immaginare le taglie io credo che noi avremmo la mass costumization dove serve e credo che non l'avremmo dove non serve l'idea che uno ha in casa magari mi sbaglio magari invece costa talmente poco ha in casa un oggetto dove schiaccia un bottone gli esce un bicchiere ma perché? facciamoli in serie che costa meno e li possiamo riutilizzare invece laddove ha bisogno di un bicchiere fatto in modo particolare perché ha un landing che è diverso da quello dell'uomo medio allora lì ha senso immaginare un bicchiere su misura e oggi lo possiamo fare questo secondo me è il grande parere e poi è sempre vero che la tecnologia bisogna capire come usarla perché di per sé stessa non serve a nulla cioè oi quando escono le stampanti 3D o hai un'idea su come usarla che tipicamente tra l'altro come sa bene chi si ne occupa tanto erano i pezzi di ricambio di sottomarini nucleari cioè non è quindi c'è un'idea su come usarla c'era oppure fai lettura Eiffel le maschere di Yoda cioè oppure oppure dici vabbè ma adesso io ho questa tecnologia a che me ne faccio a che mi serve ma la domanda non è banale perché se è una tecnologia trasferimento tecnologico uno fa il passaggio alla ricerca pura tra virgolette non è questa ricerca applicata ma è un passaggio del tutto banale su quello che dici tu sì è vero noi abbiamo messo al centro le persone con disabilità anche se poi alla fine i soci che rimangono in associazione con disabilità non sono tantissimi perché comunque sono molto più concentrati ovviamente sulla soluzione del loro problema che non a lavorare in un'associazione che lavora su questi temi ci sono un sacco di problemi noi stessi siamo abbastanza consapevoli di lavorare con i nevi sil della disabilità perché sono quelli che decidono di lavorare con noi mettersi in gioco sono motivati ma non c'è una soluzione c'è tutto un gigantesco sommerso di persone che invece non sono interessate non hanno voglia non sono raggiungibili e questo è un fatto inercovocabile c'è molto lo sappiamo insomma sono amici ma per dire una cosa c'è molta più disabilità depressa di quella che si crede non è vero che tutte le persone con disabilità vogliono giocare a basket e andare alle olimpiadi molte persone stanno su un divano fortemente supportati dalla chimica ognuno risponde a modo suo quindi c'è un dibattito enorme l'idea è comunque più banalmente e qui mi rifaccio anche il sembolo di Siskel non so se però e rimettere un po' al centro le persone quindi forse il problema che tra l'altro risponde a una dimensione etica risponde lo dicevo prima anche a una dimensione pratica cioè noi alla fine l'user experience o se rimettere al centro la persona la capacità d'uso delle persone risponde a una dimensione pratica bisogna stare molto attenti perché invece io lo dico sempre lo ripeto invece chi è ditentore di una tecnologia il nerd tende a chiudersi in una comunità di suoi pari banalmente perché con gli altri non si diverte o spesso non si diverte e questa ce l'abbiamo un po' tutti e però diciamo in questo perdiamo credo un'occasione un'occasione un'occasione